Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Gioca con me, giochi per bambini. Allora, sono qui con il nostro castello Play-Doh per creare dei gelati e oggi proprio ci metteremo all'opera. Ho intenzione di fare qualche gelato, se non tre da presentarvi. Allora, ho preso questo Play-Doh che ho mischiato e sono pronta per spruzzarlo. Ecco qua, spingiamo giù il gelato. Et voilà! Poi lo possiamo decorare con un bel fiocchettino. E una bella conchiglia. Ecco qua. E non è finita qui, passiamo a un altro Play-Doh. Doppio, ovviamente. E ho scelto questa particolare formina perché guardate cosa succede. Qui inseriamo la pasta. Et voilà! Come se fossero dei piccoli confettini. Questo è un Play-Doh molto particolare, vedete, è colore arcobaleno e guardate che effetto speciale. Fantastici! Sono davvero delle creazioni incredibili, molto carine, simpatiche, originalissime. Qui abbiamo tanti confettini, eh, sopra. Ne abbiamo creati con, ovviamente, quello che abbiamo trovato nel set. Non abbiamo cambiato nulla o aggiunto nulla. Anche qui abbiamo tanti confettini, come una granellina che ha aggiunto sopra i nostri gelati. E qui al centro, invece, abbiamo un gelato colore arcobaleno, bellissimo. E con questo effetto strano, frastagliato. Non resta che mettere i cucchiai a tutte le coppette di gelato e che dirvi? Beh, ragazzi, buon appetito! Mi raccomando, scrivete nei commenti se vi è piaciuto il set. Se anche voi lo avete o lo avete provato a casa di un vostro amico, aspetta i vostri commenti, aspetta i vostri like e le vostre iscrizioni. Come sempre, ci vediamo presto. Ciao!